Musica Arriva la prima vittoria del campionato per il Borgio, un 3 a 2 alla fin fine sofferto dopo un 3 a 0 maturato nel primo tempo in cui la squadra di casa ha dimostrato davvero di essere superiore l'Aurora finalmente la aggancia al penultimo diciamo posto con 5 punti Davide Procopi il direttore sportivo e alla fine abbiamo temuto Abbiamo sofferto abbastanza la fine, comunque diciamo che nel primo tempo abbiamo espresso il gioco che stiamo cercando di sviluppare nell'ultimo tempo e nel secondo tempo con qualche sofferenza però abbiamo portato a casa questi primi 3 punti Ma era la tensione per queste vittorie che doveva arrivare o quantomeno l'Aurora ha un pochettino alzato il suo baricentro e ha messo parecchie volte in fuori gioco Io l'ho detto più spesso, il broccino corto del tennista, avevamo paura di vincere e quindi quelle cose che venivano semplici poi vengono difficili Il secondo tempo si è visto in una squadra che ha giocato, giro palla, ha fatto belle incursioni sugli esterni e poi il secondo tempo aveva paura quasi di vincere Speriamo che adesso dopo questa prima vittoria, piano piano, i ragazzi sono un pochino più tranquilli e continuiamo il nostro percorso Noi lotterremo fino alla fine e poi alla fine tireremo i conti E nel tennis non c'è la possibilità di mandare la palla in out ma nel calcio sì, qualche volta la palla va anche in tribuna Eh sì, lo so, ma noi dobbiamo cercare di portare il più ace possibile, no? Sempre rimanendo in quest'ottica e quindi muoveremo le condizioni dei nostri giocatori perché Passafaro si è fatto male Ambrogio che oggi ha dato un importo importante si è fatto anche male, è uscito il fine del primo tempo E poi vi mancano piloti Speriamo già da lunedì dovrebbe ricominciare Saverio quindi diciamo che mo' già ci programmiamo intanto ci godiamo questa prima vittoria Stasera i ragazzi festeggiamo sono un pochino più sereni e poi da lunedì si lavora per Sabato contro la Villese Grazie a tutti Grazie a tutti